Lo sport alcamese soffre, soffrono le società sportive che oramai da due anni non ricevono più alcun contributo, neanche quel minimo vitale che quantomeno serviva a tamponare le molte uscite di queste tante piccole realtà costrette a barcamenarsi fra mille più difficoltà. E' esattamente dal 2014 che il municipio non sborsa più un centesimo per i contributi ad eccezione di qualche somma stanziata esclusivamente alla società di calcio dell'Alba che milita in eccellenza alla Delcam per l'organizzazione del trofeo Costa Gaia. Comunque stiamo parlando di piccole cifre insufficienti a completare una stagione a certi livelli. Su questo azzeramento si è consumata una lunga polemica con tanto di minacce di dimissioni da parte del presidente della consulta dello sport. Il più grande paradosso però è rappresentato senza dubbio dal palasport intitolato a Vincenzo D'Angelo di Via Kennedy, chiuso oramai da anni e di proprietà dell'oramai ex provincia. Proprio la soppressione di questo ente è stato l'inizio della fine per questa struttura che in tanti invidiavano nel panorama siciliano. Oggi è priva di qualsiasi controllo e gestione lasciata al degrado e all'incuria oltre che all'azione distruttiva dei vandali. Il comune sembrava nel 2015 pronto alla firma di un accordo con l'ex provincia poi però arrivarono le dimissioni di Bonventra e tutto saltò. Ci sono poi problemi di bilancio nell'apposito capitolo per le manutenzioni da tempo oramai sono a disposizione per tutti gli impianti appena 10.000 euro l'anno una cifra ridicola considerando il patrimonio impiantistico di Alcamo. A soffrirne più di tutti di queste risicatissime risorse lo stadio comunale Lelio Catella una struttura con problemi che si trascinano da tempo come il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione oppure le condizioni disastrose di bagni e spogliatoi. C'è poi anche il problema della manutenzione del fondocampo in erba. Proprio la cura dell'erba spesso fa slittare i tempi di utilizzo per la società di calcio che puntualmente ogni anno è costretta nelle prime gare di campionato a giocare altrove ma ad un fondocampo in erba sintetica non ci ha mai pensato nessuno. Palazzetto d'Angelo come sentivamo dal servizio a pezzi c'è da dire che ancora il palazzetto di fatto e di proprietà comunque dell'ex provincia manto erboso dello stadio Catella con difficoltà manutentive e alti costi ma soprattutto anche zero contributi alle società. Tre diversi aspetti che verranno affrontati dal prossimo sindaco in che modo? Adesso partiamo da Surdi. Sì, è chiaro che lo sport e le associazioni che si occupano di sport nella nostra città hanno un ruolo determinante non soltanto dal punto di vista del benessere fisico dei nostri giovani e dei meno giovani chiaramente ma anche dal punto di vista educativo. Quindi massima vicinanza e sostegno a tutte le associazioni che operano nella nostra città. La cosa che più ci chiedono e ci hanno chiesto tutte le società sportive e tutte le associazioni è quella di rendere fruibili, quindi accessibili, gli impianti sportivi tra cui lo stadio Lelio Catella quindi dovremo immediatamente individuare delle turnazioni del nostro personale che consentono a tutti di potervi accedere negli orari consoni e stabiliti e poi la manutenzione. Voi fate riferimento chiaramente nel servizio proprio a un esempio che è davvero lampante, il Paladangelo è un esempio di come si è riusciti in questi anni di come la politica in questi anni è riuscita a sperperare ingiustamente dei soldi pubblici il fatto che il Paladangelo sia di proprietà provinciale non deve assolutamente fermarci non deve assolutamente fermare l'attività della prossima amministrazione che dovrà parlare con gli organi dell'ex provincia competenti per chiedere sicuramente la messa in ripristino, la manutenzione perché abbiamo visto girare delle foto nei mesi scorsi davvero scandalose soldi, ingenti, somme che sono andate bruciate a causa dell'incuria e della mancanza di custodia riuscendo a fare questo poi chiederemo alla provincia che venga ceduto il Paladangelo alla nostra città perché sicuramente riusciremo ad utilizzarlo al meglio con la collaborazione di tutte le associazioni sportive. Lo sport è cultura ed è cultura determinante per la crescita dei nostri giovani perché impegnandosi nello sport evitano innanzitutto la devianza sociale quindi per noi avrà la dovuta attenzione ma non sarà l'attenzione del passato dove i contributi senza alcun criterio venivano dati ad associazioni noi punteremo sempre ad un argomento la meritocrazia, l'eccellenza e per fortuna ad Alcamo ci sono tante associazioni sportive che vivono e praticano l'eccellenza dalla Pallamano, dalla Costa Gaia non c'è bisogno nemmeno di citarla perché è di fama veramente nazionale a tutte le scuole di danza di Alcamo abbiamo degli atleti che si distinguono addirittura a livello internazionale noi dobbiamo dialogare con questa gente con la nostra eccellenza perché lo sport nel momento in cui viene praticato in questo modo produce economia sul territorio non è soltanto un fattore culturale di crescita dei nostri giovani ma è anche un'economia di ritorno per tutti coloro che vorranno investire sul nostro territorio in quegli eventi che saremo in grado sicuramente di attivare a tal proposito è fondamentale stipulare delle convenzioni con questa associazione per la gestione degli impianti sportivi per loro sarà un risparmio per il comune sarà un risparmio nel caso di manutenzione che non dobbiamo fare ma che faranno loro grazie a tutti